Ciao ragazzi, benvenuti sui nuovi, sono TheAvenger e oggi giochiamo a... oggi siamo in questo nuovo video, in un nuovo contest in questo contest ci sarà in palio CSGO per chi si chiede se non c'era l'estrazione del vecchio contest semplicemente perché non volevo rispettare le normative della privacy di tutte le persone, le persone vincitrici quindi mi ha preferito parlare come si chiama parlare ho preferito contattarle personalmente per evitare problemi quindi, si, si, scusate per vincere il contest dovrete fare le stesse identiche regole che valevano per il vecchio contest ok, per finire questo round chiudo il video eh mattina, perché cavolo è spogliato grandissimo ok eh ecco, quindi stavo dicendo in questo contest vincerete due K, pensi, due K di CSGO una va al primo classificato e l'altra va all'ultimo classificato proprio così all'ultimo ok quindi noi ci vediamo al prossimo video e il contest termine fra una settimana è quindi il 15 del 2 del 2015 quindi noi ci vediamo al prossimo video e a . . . . . . . Ciao!